È stato presentato oggi, durante la firma del protocollo d'intesa tra Comune di Pesaro e Rete Ferroviaria Italiana, il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria di Pesaro. Tanti gli interventi previsti a partire dalla realizzazione di un nuovo fabbricato sul fronte sud, che amplierà quindi i punti di accesso alla stazione. Verranno poi modernizzati gli spazi dedicati ai viaggiatori, l'atrio d'ingresso, le aree di attesa e gli spazi comuni. Proprio all'esterno dell'ingresso nord, infatti, aumenterà il perimetro destinato all'area pedonale, che sarà accompagnata da una riorganizzazione dei percorsi ciclabili e veicolari. Previsti anche nuovi parcheggi per auto, moto e bici, insieme al restyling per il sottopasso e per le pensiline. Diverse anche le idee riservate al piano superiore della stazione, tra queste l'ipotesi di realizzare un ostello. L'investimento complessivo è di 16 milioni di euro, equamente suddiviso tra rete ferroviaria e comune di Pesaro. Molto importante per tutta la provincia, perché la stazione di Pesaro è la stazione della provincia e oggi non è adeguata rispetto allo sviluppo che vogliamo dare al trasporto su ferro, sempre più importante per il turismo. Abbiamo proprio in questi giorni avuto la notizia dell'arrivo di Italo e di altri Fressarossi, quindi siamo molto contenti e al tempo stesso fondamentale per la riqualificazione di quell'area della città, intorno alla quale il comune sta già investendo tante risorse, l'area di via dell'Aquedotto, intorno al parco Miralfiori, sotto passi del Cavalchiavia e questo intervento di ferrovie dà completa l'opera. Sono 8 milioni di investimenti, altri 8 milioni che arrivano a Pesaro, di RFI e siamo molto soddisfatti, perché come avete visto anche dal rendering il progetto di riqualificazione è completo, radicale e permetterà alla stazione di essere non solo più bella e più attrattiva, ma anche di avere molti più servizi e un'accessibilità migliore sia in auto, sia in autobus e in bicicletta con altri mezzi sostenibili, quindi siamo davvero molto soddisfatti. Tra gli obiettivi fondamentali del piano di rete ferrovia italiana, quello di intervenire sulle stazioni a livello nazionale proprio per recuperare un rapporto con i territori, questo giova al servizio ferroviario innanzitutto perché è una stazione più accessibile con tutti i servizi integrati di mobilità urbana, quindi con delle migliori connessioni, sicuramente alimenta il ferro e quindi genera la possibilità per più persone di utilizzare il mezzotreno. Dall'altra parte una stazione ben integrata con la città è anche un luogo di riferimento più piacevole, più sicuro, dove possono essere allocate delle funzioni che siano anche di interesse territoriale per le persone che vivono il contesto della stazione. Quindi è un lavoro, quello dell'integrazione, che non può che farsi insieme, motivo per cui alla base dello sviluppo progettuale ci sono accordi con gli enti, come quello di oggi con la città di Pesaro, che mirano proprio a mettere intorno a un tavolo i soggetti che hanno evidentemente a vario titolo la voglia di realizzare degli obiettivi di integrazione. Ovviamente è importante anche poi definire tempi e finanziamenti perché la concretezza del progetto si traduca in tempi ragionevoli rispetto alle dichiarazioni che vengono fatte. Noi entro l'anno partiremo con la parte progettuale perché ovviamente ci sono delle tecnicali di natura procedurale che sono la disponibilità dei fondi che si aprono nel momento in cui si definisce l'accordo. Quindi l'obiettivo è quello di completare la progettazione per avviare i lavori il prossimo anno e quindi Orizzonte 2023 l'intervento per quanto riguarda la parte di rete ferroviaria italiana dovrebbe essere completato. Evidentemente c'è una corona di interventi intorno che riguarda le aree del comune che dovrà essere integrata anche dal punto di vista della programmazione temporale perché alcuni interventi della città sono profedeutici alla per esempio la riqualificazione del piazzale e indubbiamente attende una revisione della viabilità che è di competenza del comune. Quindi queste tempistiche si definiranno proprio nel corso dello sviluppo del progetto.